E appena ho ricevuto la notizia di quello che stava succedendo in aeroporto, sono subito corso lì, accompagnato dai vigili urbani e appena sono andato nell'androne, devo dire la verità, c'era una volgia impressionante con diversi lavoratori che avevano sostanzialmente occupato tutta la parte delle partenze, proprio laddove si fa la consiglia bagagli e si accede appunto all'area delle partenze, lì erano tutti in terra dei lavoratori che con i caschi battevano proprio per significare la loro presenza, circondati da una catena di forze dell'ordine e che li proteggevano la parte distante ma proteggevano anche l'accesso poi alle onde delle partenze e lì subito mi sono rivolto a qualcuno che coordinava le operazioni di forza dell'ordine che devo dire la verità mi ha subito dato possibilità, mi sono qualificato, mi ha subito la disponibilità a varcare quelle porte laddove i lavoratori fossero stati disponibili, infatti io mi sono qualificato, mi sono presentato ai lavoratori e loro mi hanno subito chiesto di provare a tentare una mediazione nella pista perché appunto c'era il prefetto e il questore, cosa che ho assolutamente fatto, nel senso che mi sono fatto accompagnare lì giù e da un lato avevo una preoccupazione pochissima che questi lavoratori non corressero rischi dal punto di vista del reatto penale che stavano sostanzialmente commettendo, però quando sono arrivato lì in pista la situazione era assolutamente drammatica perché 50 persone in una pista enorme come quella sembravano davvero pochissimi ed era drammatica perché invece la presenza di forza dell'ordine era assolutamente rilevante, per cui loro ad un certo punto si sono trovati muro contro il muro, tant'è che sia i giornalisti che i due deputati che c'erano, ne compreso, ci siamo subito schierati dalla parte dei lavoratori perché si ventilava l'ipotesi da parte del prefetto e del questore che ci potesse essere una carica. Devo dire che il fortissimo senso di responsabilità di ciascuno di noi ha fatto sì che questo non avvenisse, il prefetto e anche il questore si sono dimostrati dal mio punto di vista assolutamente all'altezza della situazione per cui non hanno perso la pazienza, hanno tenuto i nervi saldi e sono riusciti in quest'opera di mediazione appunto a fare in modo che gli uomini, i loro uomini non intervessero. La vicenda si è conclusa appena è arrivata la telefonata che ha ricevuto il prefetto da parte del sottosegretario della presidenza Gianni Letta che l'incontro promesso ai lavoratori al COA 3 di 5 veniva anticipato al 2. Questo ha assolutamente consentito ai lavoratori di essere un po' più sereni, hanno fatto anche loro le verifiche che questa telefonata avesse un fondamento e che quindi quell'incontro fosse stato approvato per il 2. A quel punto davvero gli uomini dell'ALCOA, gli uomini delle forze loro, tutti assieme siamo rientrati in aeroporto e poi da lì si è appunto liberata la pista, si è liberata l'androne e tutti tornati alla località.